Commentare proprio con il bomber biancazzurro questa sconfitta, è arrivato il tuo gol, forse ti sei aiutato un po' troppo ma la palla è andata in rete, però il Pescara non c'è. Eh lo so, come ho detto prima, siamo dispiaciuti, chiediamo scusa alla gente che è venuta fin qua, quella che c'è sempre, bisogna andare avanti, cercare di prepararsi al meglio per questi play-off e fare il meglio di queste tre partite. Che cosa è successo oggi secondo te? Perché dieci minuti hai avuto anche una ghiotta occasione, di solito Ferrari quella non la sbaglia, ma lì cosa è successo? Poi dopo quei dieci minuti, il cross di Zappella, poi dopo quei primi dieci minuti ho visto molto meglio la Lucchese. Eh lo so, quella palla ce l'avevo in testa, l'aveva sfiorata il difensore e si è mostro, se no ce l'avevo in testa. Come hai detto te, abbiamo sbagliato tante cose, bisogna andare avanti e non farli più questi errori come abbiamo fatto oggi. Purtroppo abbiamo sbagliato tutto e chiamo scusa alla gente che c'è sempre stata e spero che ci sia ancora, che proveremo a fare il massimo per arrivare meglio a play-off. Soprattutto a me non è piaciuto per niente, dopo il tuo gol, lì c'era la possibilità con tanti attaccanti in campo di creare qualcosa e il Pescara non ha costruito nulla. Eh purtroppo, come ho detto prima, abbiamo sbagliato tante cose, tante scelte, io in primis, quindi quando le partite non vanno, i risultati non vanno, scusa, non ci sono parole, non ti potrei dire sì, ma niente, bisognava vincere, lo abbiamo fatto e purtroppo è andata così. L'ultima cosa ti chiedo Franco, dopo la partita con il Cesena sembrava essere indirizzata bene la stagione perché avevate vinto lo scontro diretto giocando un ottimo calcio. Poi Teramo, Pontedera e oggi, due punti in tre partite e una chiara involuzione, ti chiedo perché? Come dico sempre, avevano detto calendario facile, per me non ci sono in Serie C partite facili o difficili, come è successo oggi, Luca, facile, nessuna partita facile, siamo venuti qua, loro col corteo tra i denti e ci hanno fatto vedere che ci sono e che tutte le squadre sono fastidiosi in questo campionato.